del mio cuore. Siamo tornati a fare un altro servizio evangelico a casa. Per questo preparate l'acqua da fluidificare. Può essere un bicchiere, una bottiglia, qualsiasi quantità e potete berla per tutta la settimana. Quest'acqua sarà fluidificata dagli spiriti buoni che sono raccolti con noi in questo momento. Diciamo la nostra preghiera. Questa preghiera è la preghiera del Venerdì Santo, dell'autore spirituale Emanuel e del medium Chico Xavier. Signore Gesù, benedici per misericordia la casa che ci hai dato un servizio della preghiera. Raccoglici, raccoglici qui nel tuo amore e insegnaci a cercarti per non perdere lungo la strada. Nei momenti felici, sì la nostra forza affinché la gioia non ci renda ingrati e insensibili. Nei momenti amari, sì il nostro sostegno affinché la tristezza non ci renda giù e inutili. Nelle limpide giornate concesse la benedizione di sudare in un lavoro dignitoso. Nelle notti tempestose illumina il nostro spirito in modo che comprendiamo il tuo avvertimento. Ci porta a meditare sentendo e sentendo in modo da non mantenere il giaccio nel cervello e ci indurre a sentire ponderi e pensieri in modo a non avere fuoco nel nostro cuore. Aiutarci affinché la carità nella nostra esistenza non sia vanità che lacera gli altri e affinché nei nostri giorni non sia orgoglio strisciante. Aiutarci affinché la nostra fede non diventi fanatismo e che la nostra impavidità non diventi ripetulanza. Benefattori amorevole, perdona le nostre colpe, maestro sublime, sollevaci per le lezioni e soprattutto, signori, facci comprendere la divina volontà affinché imparando a servire con te sappiamo dissolvere l'ombra della nostra presenza nella gloria della tua luce. Bene, amè. Siamo al capitolo 21 del libro Il Vangelo secondo lo Spiritismo al punto 11. Rispondiamo oggi alla seguente domanda. Come possiamo evitare di diventare noi stessi falsi profetti? Dopo questa lettura ricordate di parlare con Dio in silenzio e poi di bere l'acqua che sarà fluidificata alla fine della tua conversazione con lui. Allora, vediamo. Geremia e i falsi profeti. Ecco cosa dice il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano e vi ingannano. Parlano delle visioni del loro cuore e non di ciò che hanno appreso dalle labbra del Signore. A tutti coloro che mi bestemmiano dicono, il Signore lo ha detto, avrete la pace. E a tutti coloro che procedono con la corruzione del cuore, non vi accadrà nulla di male. Ma chi fra loro ha assistito al Consiglio di Dio? Chi lo ha veduto ed ha ascoltato ciò che ha detto? Io non mandavo questi profeti ed essi correvano da loro. Non parlavo loro ed essi profetizzavano a loro guise. Io ho udito ciò che dicevano questi profeti, che profetizzavano la menzogna in mio nome dicendo, ho sognato, ho sognato. Fino a quando questa immaginazione sarà nel cuore dei profeti che profetizzano la mesogna e le cui profezie non sono che le illusioni del loro cuore. Se dunque questo popolo o un profeta o un sacerdote vi interroga e vi dice qual è l'aggravio del Signore? Voi gli direte, sei tu stesso che sei il suo aggravio e vi getterò molto lontano da me, dice il Signore. Geremia capitolo 23, versetti da 18, 21, 25, 26, 33. Amici miei, desidero parlarvi di questo passaggio del profeta Geremia. Dio, parlando per la sua bocca, dice, è la visione del loro cuore che li fa parlare. Come indicano chiaramente queste parole, già alla sua epoca i ciarlatani e gli esaltati abusavano del dono della profezia e lo sfruttavano. In conseguenza abusavano della fede semplice e quasi cieca del popolo e, per denaro, predicevano cose buone e piacevoli. Questo genere di inganno era assai diffuso nella nazione ebrea ed è facile capire che il povero popolo, nella sua ignoranza, si trovava nella impossibilità di distinguere i buoni dal mavagi ed era sempre lo zimbello di questi sedicenti profetti che non erano che degli impostori e dei fanatici. Cosa c'è di pre-significativo di queste parole? Io non ho mandato quei profeti ed essi sono corsi da loro. Io non ho parlato loro ed essi hanno profetizzato. Poco dopo aggiungi, io ho udito questi profeti che profetizzavano la mezzogna in nome mio, dicendo io ho sognato, io ho sognato, indicava in tal modo uno dei mezzi impiegati per sfruttare la fiducia che si aveva in essi. La moltitudine, sempre credo, non pensava affatto di mettere in dubbio la verità, la veracità dei loro sogni e delle loro visioni. Trovava naturale tutto ciò e invitava sempre i profeti a parlare. Dopo le parole del profeta, ascoltate i saggi consigli dell'Apostolo San Giovanni che dice Non credete a tutti gli spiriti ma provate se sono spiriti di Dio perché fra gli invisibili ve ne sono anche di quelli che si divertono a fare da zimbeli quando se ne offre l'occasione. Questi zimbeli sono, ben inteso, in medium che non prendono sufficienti precauzioni. E' uno dei maggiori scoli contro cui i medium vengono a urtare, soprattutto quando sono novizi dello spiritismo. E' per essi una grande prova della quale non riescono a trionfare se non con una gran prudenza. Imparate dunque prima di tutto a distinguere gli spiriti buoni da quelli ingannatori per non diventare voi stessi dei falsi profetti. Questo ha detto lo spirito luos, spirito protettore, a Karlsruhe a 1861. Ebbene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, fate domande, dateci suggerimenti. Iscrivetevi al nostro canale su Facebook, Youtube, Instagram. Clicca sulla campanella al lato per ricevere le notifiche. Dio vi benedica a tutti. Fino alla prossima volta. Baci. Ciao.